Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore Allora ragazzi, quest'oggi andremo a concludere i mesi di settembre affrontando la partita di campionato contro i Borussia Mönchengladbach poi arriveremo ad ottobre dove avremo il nostro esordio in Coppa contro l'Offenheim ragazzi, partita in Coppa, cioè comunque Coppa che l'anno scorso ci ha visto arrivare in finale vediamo un po' se quest'anno riusciremo a replicare lo stesso cammino e poi ragazzi abbiamo anche l'Ausburg da affrontare come terza partita di oggi come sempre ragazzi, prima di iniziare vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale per restare sempre aggiornato e per continuare a supportarmi anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità a seguirmi sulla pagina Instagram e a sostenere il canale tramite un abbonamento e ad una donazione detto ciò ragazzi, direi che senza perdere tempo possiamo scendere subito in campo ho preparato la formazione, ci sono dei cambi visto che affronteremo la partita in Coppa fa solamente tre giorni quindi alla fine ho deciso di cambiare qualcosa quindi Kerkchen fra i pali, poi Marino, Mugniz che fa i suoi esordi con Bamba e Mina centrocampo con Bappé, Rebiger e Ulrich in attacco abbiamo Sonko, Konaté e Duramil e oggi possiamo subito andare, balli e parli in avanti di Konaté per Ulrich che si è inserito alla grande, Ulrich Ulrich subito a tu per tu contro il portiere arriva un clamoroso errore da parte del nostro centrocampista peccato ragazzi, potevamo stare già in vantaggio uh Konaté che pallone che ha recuperato, attenzione Konaté per andare direttamente in porta, Konaté, Konaté, Konaté non sbaglia e si sblocca la partita, 1-0 dopo la clamorosa occasione di Ulrich arriva il gol da parte di Konaté ma qua ragazzi è stato veramente eccezionale a recuperare questo pallone una cattiveria veramente impressionante nel replay non si vede ma sicuramente nel montaggio vi mostrerò tutto comunque ragazzi 1-0 siamo in vantaggio, ovviamente segna Konaté Rappiger, possiamo avanzare Durambil, c'è lo spazio ancora per Konaté che deve evitare l'uomo, alla fine decide di servire Sonko vediamo un po' Sonko, si riesce a diventarsi qualcosa è un po' svanito quell'effetto sorpresa, tra virgolette comunque, quell'effetto di superiorità numerica Konaté, non cambia nulla Konaté, no, l'ha messa fuori ragazzi ma quanto è forte occhio Sonko, l'appoggio dentro Konaté, Konaté, prova a sterzare Konaté, va, col destro ma è centrale stavolta il tiro e termina anche il primo tempo su questa conclusione del nostro Bomber 1-0 all'intervallo per noi, potevano essere due ma va bene lo stesso, comunque stiamo affrontando Imojeng Labak che non è la prima squadra che passa, anzi ragazzi la palla rimane lì non ci credo ragazzi arriva il gol di Konaté palla che è rimasta letteralmente lì Konaté non ci ha pensato, 3 secondi ha spaccato tutto 2-0 arriva la doppietta personale per Konaté, ma ragazzi guardiamo qui un passaggio praticamente sbagliato Konaté che va a contrasto con Itakura che non riesce a contenerlo Konaté passa e poi scaraventa questo destro imprendibile cioè ragazzi ormai già sto finendo gli aggettivi per questo giocatore Konaté si stacca bene Urrik che può riprovarci Urrik, Urrik! stavolta va piano piano, becca il palo ci riprova e arriva la parata nel portiere niente ragazzi Urrik decisamente sfortunato quest'oggi anche impreciso ma secondo me principalmente sfortunato perché anche sulla respinta dopo il palo preso la palla poteva entrare dai cioè siamo onesti però ragazzi attenzione che il Glabak può chiudere in avanti l'impallo vinto e Kerkchen deve mettere come sempre il suo marchio, il suo sigillo gran parata facciamo qualche cambio allora ragazzi per questi ultimi minuti dentro di Benedetto del Dragone in attacco Bamba, Momolu e Scholz ok ragazzi alla fine arriva anche il fischio finale grande 2-0 per noi Konaté eccezionale superlativo un giocatore assurdo già sto impazzendo per lui ragazzi ve lo giuro ok ragazzi subito in campo contro Loffenheim partita di Coppa ovviamente ci sono dei cambi Berenj importa a meno la Coppa la giocherà come ha fatto l'anno scorso facendo anche bene perché bisogna dirlo in difesa Wattara, Chiarodia, Belcaia, Cagliode Di Benedetto, Wurl e Dragone in attacco Bamba, Momolu e Scholz forse aveva più senso mettere Konaté contro Loffenheim che sarebbe la sua ex squadra però ragazzi eventualmente lo facciamo subentrare a Bamba possiamo andare Bamba tenta subito il kickoff attenzione Bamba Bamba va sul primo palo e batte il portiere 1-0 si sblocca subito la partita bene così ragazzi come sempre in Coppa è importante andare avanti più turni possibile perché poi la dirigenza inizia a lamentarsi quindi cerchiamo di stravincere questa partita e occhio possiamo andare ancora con Bamba deve decidere solo se andare a destra o a sinistra alla fine sceglie la destra con il Dragone il Dragone che prova a battere Nol portiere dell'Offenheim ma si salva la squadra blu praticamente comunque calcio d'angolo sciolzi in mezzo palla che rimane lì chiarodia il tocco per Di Benedetto servirebbe allargare infatti arriva il tocco ancora per il Dragone vediamo un po' il Dragone l'appoggio dentro per Momolu vedo sciolza al limite dell'aria che può provare a far partire il sinistro ancora Nol che si salva occhio Bamba possiamo andare Bamba riesce ancora a passare Bamba vediamo un po' ci riprova addirittura prova ragazzi l'esterno destro qua esagera Bamba sinceramente occhio Momolu c'è spazio per il Dragone il Dragone ci riprova evita l'uomo e va col sinistro ma la mette fuori un'altra clamorosa chance per il Dragone che viene sprecata occhio ragazzi ultimo affondo per questo primo tempo Di Benedetto riesce a toccarla per Momolu che va dal Dragone che può riprovarci terzo tentativo e finalmente la mette dentro a tempo scaduto quindi in pieno momentum non poteva sbagliare 2-0 arriva l'importantissimo gol del raddoppio segna il Dragone che più segna meglio è ragazzi così si trasforma prima in un centrocampista centrale almeno si spera ragazzi perché altrimenti ci vuole troppo tempo cioè ragazzi doveva esserlo già da un po' però i tempi continuano ad allungarsi manco quando vai dal medico comunque finisce il primo tempo 2-0 per noi stiamo giocando molto bene ragazzi no ragazzi con attenzione è passato Rafa Mir potrebbe arrivare il primo tiro da parte dell'Offenham che viene però parato da Berensh bravissimi ragazzi cioè comunque bravissimi ragazzi perché sarebbe stato veramente un peccato subire gol alla prima azione da parte dei nostri avversari ma occhio che qua arriva subito la seconda ancora Berensh che riesce a parare alla fine World mette il piede e chiude tutto e si può anche ripartire in contropiede con Scholz che ha spazio Scholz deve accelerare bravo Scholz arriva direttamente in area non farti recuperare dai ragazzi queste cose brutte non mi piacciono cioè un mio esterno non può farsi recuperare in questo modo ma con tutto il bene allora ragazzi arrivano anche i cambi ne faccio solamente due dentro Durambil e Conatè per mettere un po' di attiglieria pesante in campo tra l'altro ragazzi riceviamo anche un'interessantissima punizione proprio con Conatè che effettivamente è uno che ci sa fare no? con le punizioni quindi io adesso proverò a fare una cosa del genere vediamo un po' Conatè parte col destro punizione perfetta ma arriva il miracolo da parte del portiere e qua sono curioso di rivedere perché mi è sembrato mi è sembrato un'ottima conclusione questa di Conatè e effettivamente era proprio così miracolo ragazzi parata sensazionale da parte del portiere e ok ragazzi arriva anche il fischio finale bene così 2 a 0 per noi bella vittoria i gol arrivano nel primo tempo nel secondo sicuramente ci abbiamo provato però ragazzi un'altra bella vittoria dagli e ok raga adesso si torna con i titolari al completo per affrontare l'Ausburg Sonko vuole giocare lo farò entrare a partita in corso sinceramente un'altra cosa però che voglio vedere l'abbinamento in coppa abbiamo beccato il Borussia Dortmund beh devo dire che ci è andato abbastanza male terzo turno che sarebbero praticamente gli ottavi Borussia Dortmund va bene ragazzi prima o poi sono squadre che vanno affrontate quindi non c'è problema una piccolissima cosa che voglio controllare è capire qui raggiungi gli ottavi in coppa quindi teoricamente la dirigenza è già felice perfetto ragazzi ok comunque scendiamo in campo come detto miglior formazione possibile per affrontare l'Ausburg ragazzi stiamo continuando a vincere c'è qualche giocatore stanco su tutti chiaramente il Dragone che ovviamente verrà sostituito a partita in corso ma almeno il primo tempo io lo voglio far giocare perché così abbiamo proprio accompagnato la formazione migliore possibile quindi tutto pronto scendiamo in campo proviamo a vincere anche questa e poi c'è ragazzi Durambil qua bella giocata questi prestano molto quindi bisogna provare a fare cose del genere comunque buono l'appoggio dentro con a te c'è l'inserimento da parte di Mbappé che non sbaglio 1-0 siamo in vantaggio come vi ho detto questi qua prestano tanto è una squadra che è molto aggressiva infatti bisogna fare attenzione qua con i passaggi eccetera eccetera però qua siamo stati veramente bravissimi con la giocata di Durambil a evitare tutti a mandare in confusione la difesa avversaria poi per il resto ci pensa Mbappé che col sinistro prende in contotempo il portiere lo batte 1-0 siamo in vantaggio c'è ragazzi l'Ausburg qua spazio per distendersi attenzione c'è Saidon il tocco per Raul il tocco dentro ancora Saidon e Kerkchen qua deve fare l'intervento c'è ragazzi alla ripartenza che è molto importante visto che stanno molto in avanti vediamo un po' se prima della fine del primo tempo riusciremo a costruire qualcos'altro proviamoci con il dragone che deve allargare Durambil taglia in mezzo bravissimo Durambil taglia ancora e vai col sinistro qua bravissimo Durambil ma arriva la gran parata del portiere ma bene così ragazzi è proprio quello che bisogna fare in questa partita calcio d'angolo Mbappé per chiudere in bellezza c'è Bamba vediamo un po' se l'arbitro ci fa calciare dire proprio di no anche perché Bamba viene chiuso finisce primo tempo ottimo primo tempo la parte nostra 1-0 cerchiamo di fare molta attenzione nella ripresa perché questa partita è ancora apertissima non ho ottime sensazioni oggi perché sono quelle partite che poi sai una minimazione da parte dei tuoi avversari ti fanno il golletto e poi va a finire che non la vinci quindi cerchiamo di tenere l'attenzione altissima occhio Bamba possiamo andare l'appoggio per Conate che oggi si è visto ancora poco ottimo il tocco per il dragone dragone ti prego dragone traversa clamorosa Durambil di testa non riesce ad arrivarci ma qua ragazzi veramente super opportunità il dragone non può mangiarsi tutti sti golli Durambil l'appoggio per volo vai Damba Bappe c'è spazio per Bamba 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 col destro viene respinto calcio d'angolo che batte Bappe palla al centro Chiarodia riesce ad anticipare tutti ma la palla è fuori cambia ragazzi cambia allora dentro Sonko che mi ha chiesto di scendere in campo dentro Ulrich con con il dragone che è troppo stanco stesso discorso anche per Conate e per il momento direi di lasciar stare perché la partita è ancora in bilico quindi non cambiamo troppo occhio Durambil l'appoggio per Ulrich bellissimo il pallone per Momolu a cercare Sonko che si gira la lascia lì Mbappe doppietta personale ma che azione signori segna ancora Mbappe 2 a 0 per noi veramente una bellissima azione con i nuovi con i nuovi entrati con i subentrati che riescono a rendersi protagonisti qua veramente ottima rete di passaggi poi Sonko che qua fa la giocata girandosi e poi riesce a seguire il pallone al compagno di squadra che col mancino non poteva sbagliare 2 a 0 adesso sono molto più tranquillo ok ragazzi finisce anche la partita 2 a 0 per noi bella vittoria proprio è stata una bella partita anche a tratti sofferta ma sofferta per la ricerca del secondo gol che non arrivava ma alla fine è arrivata addirittura ragazzi partita decisa da una doppietta di Mbappe che tra l'altro ragazzi non è manco la prima volta che succede Mbappe non è nuovo a queste cose ragazzi Mbappe è un giocatore veramente forte Mbappe ha convocato nel Belgio molto interessante Sonko è felice che ha giocato un aggiornamento qua per gli osservatori ma secondo me secondo me secondo me il prossimo ragazzi Diego Ferrari no è una pippa peccato comunque ragazzi allora classifica dopo 6 giornate l'abbiamo vinta tutte e 6 effettivamente ragazzi 18 punti per noi siamo primi in classifica il Dortmund prova a tenere cita adesso ragazzi è assurdo che con questa squadra riesca a giocare veramente alla grande oggi 3 vittorie consecutive per 2-0 tra l'altro però è veramente impressionante come riesca a giocare bene con questa squadra cioè io gioco esattamente con la stessa difficoltà con le stesse slider tra piccolette che non ho mai toccato anche col Bari e col Bari non ho questa semplicità anzi ragazzi col Bari in serie B sto facendo fatica a salire in serie A quindi veramente c'è un'alchimia con questa squadra che è veramente impressionante comunque nella prossima puntata chiuderemo il mese di ottobre affrontando per De Brema Francoforte e l'Union Berlino sicuramente ragazzi sulla carta affrontiamo sempre avversari che sono forti per noi però comunque noi riusciamo a giocare bene con tutti comunque ragazzi io direi che per oggi possiamo fermarci qua come sempre vi invito a lasciare un mi piace di iscrivervi al canale a seguirmi sulla pagina Instagram a sostenere il canale tramite l'abbonamento e ad una donazione noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti A presto